In contrapposizione c'è il fenomeno che io definirei Fabris. Fabris, ma ci vuoi dire che cura hai fatto per ridurti così? Non è impossibile. E' tremenda e' da denuncia. Uno non si può presentare tutto così. Le mannano certificato, ma d'ufficio di genere. Dai, basta ragazzi, smettitela che si offrenda. No, 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 falli divertire, si divertono così. No, De Brofilo no, non lo posso vedere. Portatelo, portatelo. Eccomi qua. E' terribile, è terribile. Divertitevi. No, è terribile. Dai, dai, dai. Ma dai, su, ma io spiazzavo, eh. Certo, mi sei pesante. Ma sei pesante, come sei? Io so fatto così a battuta, mi piace, non te possa fare niente.